Le interessanti novità di questa guerra stanno veramente ribaltando le certezze che poi erano menzogne e le menzogne che poi in realtà erano le verità che ci hanno accompagnati da quando è iniziata la famosa guerra in Ucraina che in realtà non è iniziata due anni fa ma è iniziata nel 2014. Il nano da giardino come lo chiamo io, ovvero sia Zelensky, una disgrazia non solo per il mondo attoriale della comicità ma una disgrazia anche e non solo per il popolo ucraino che attualmente ha subito e sta subendo le peggiori nefandezze proprio per l'esistenza e l'incapacità politica di questo nano da giardino è stato velocemente dimenticato, ovvero sia Zelensky oramai non se lo incula più nessuno, neanche gli Stati Uniti d'America prima di tutto perché non fa gossip e secondo perché ha rotto altamente i coglioni lui, la sua serie di menzogne e il suo desiderio sanguinario di rifarsi su Putin come se lui fosse anche un decimo del livello politico di Putin. In pratica il nostro nano da giardino prima ha cercato di andare all'ONU e gli hanno detto sì ma che sei venuto a fare era completamente inutile dopodiché ha chiesto a Israele, lui che dovrebbe essere impegnato in prima fila a combattere se poteva andare perché voleva sostenere lui, che non fa altro che chiedere soldi al mondo, Israele Israele gli ha detto anche no puoi restare dove sei. Ma chi si rivela l'assopigliatutto della nostra attuale evoluzione bellica, cioè dello scontro tra Hamas e Israele, Vladimir Putin. Vladimir Putin che si è proposto nelle ultime ore con Netanyahu per fare da mediatore e portatore di pace tra Israele, Libano, Siria e Hamas. Cioè lui ha detto io mi propongo come portatore di pace e ha anche detto solo con diplomazia se risolvono problemi i compagni, non con le armi. Pensate che cosa assurda. E l'ha fatto in modo intelligentissimo architettando tutta una serie di strategie parlando anticipatamente con i suoi alleati perché lui va là per fare bingo con la comunità internazionale, capite qual è il discorso, e accaparrarsi giustamente perché è un politico molto sveglio e raffinato i favori di Israele. Scavalcando gli Stati Uniti che in mano a quel vecchino che saluta la gente così, un certo Joy Biden, una disgrazia pure quello, non sanno che pesci prendere. Sai poi gli americani non sono molto abituati a differenza di tutto il resto del mondo e della Russia alla diplomazia. Gli americani prima ti bombardano e poi parlano. Tutto questo fa riflettere e fa pensare alla cecità complessiva del mondo. Pensate, Putin ha detto l'altro giorno una guerra nucleare solo uno sciocco la vorrebbe. Pensate. E il mondo diceva che lui voleva la guerra nucleare. Putin è il criminale numero uno del mondo e Putin adesso è quello che probabilmente porterà la pace in questo conflitto. Fa riflettere. Il nano da giardino se lo siamo già dimenticati. Ma la cosa più interessante è questa. Che Putin è l'unico al mondo che ha detto, non vi scordate mai, che nella costituzione di Hamas non c'è l'indipendenza della Palestina. Che non risolverebbe niente. Che poi indipendenza, l'autodeterminazione, il riconoscimento della Palestina. Tra gli obiettivi di Hamas c'è lo sterminio del popolo ebraico di tutto il mondo. Che fa il paro con l'attentato di Bruxelles, i terroristi arrestati poche ore fa a Milano e bla bla bla. Sì, continuate a dire pro-Palestina senza conoscere i fatti e la storia. Continuate a seguire questa mandira di bruffoni. Io dico solamente grazie Putin se ci risolvi questo grande problema. Grazie. Grazie.